Vi ringrazio molto quello che ha pensato in particolare a questo senso della comunità che credo sia una cosa molto molto importante Mario, non la sei santi? E' l'italiano? Dai Kenia, Mario No, non sei in Swahili In inglese? Sì, sì In Swahili, Swahili Sì, è abbastanza conosciuta Beh, io lo capisco benissimo No, però c'è una parola, un viaggio, non sai come si dice Swahili, viaggio, Safari Safari, eh beh, Safari Però io voglio dire Assante Assante, sì, Assante E ringraziare Ringraziare Grazie 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 We're able to speak Italian I would say Grazie mille Grazie Grazie For welcoming us into the fold in our community Come I think Lewis had said And I'm sure like Marian said in Swahili So, thank you very much We're going to say Grazie mille la lumière était tombée remplissait mon verre de vin je voulais faire un discours plein d'émotions et plein d'intentions fortes et je pense que le vin l'a achevé c'est que le vin il m'a achevé la lumière ok va bene la lumière la lumière la lumière en français l'italiano 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 merci a tutti l'italiano l'italiano grazie la lumière calore 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 l'italiano 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 ora l'italiano calore è una meccasanzana ancora avrebbe scritto è nata di 91 è cominciata la stiamo ancora scrivendo prima di tutto un abbraccio a tutti voi con la vostra accoglienza che è stata magnifica non ridubitavo anche perché io conosco molto bene delle valli che sono qui vicino perché ci ho passato 30 anni lui tre mesi qua e io tre mesi dall'altra parte non so se conoscete come sante modenese dall'altra parte da San Pellegrino che andava a Gotti qua c'è qualcuno ci ho passato 30 anni quindi la sua garfagnana è il mio appellino modenese che però conoscevo anche bene insomma queste sono zone un po' non come il suo però diciamo un po' acquisite nel 91 ho avuto occasione di conoscere questo elemento siamo subito diventati Filippe e Pablo poi questa è un'altra storia ora ne stiamo cominciando un'altra la quale mi ha coinvolto e sono veramente veramente felice di partecipare domani cominciamo questo viaggio e speriamo che di coinvolgere il più possibile di persone grazie a voi grazie a tutti 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 e io vorrei dare un ultimo grazie ai ragazzi del gruppo a un momento a un gruppo gruppo a un momento 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 insieme abbiamo fatto un oggetto come se mi piace bene giocando del set ancora comunque io direi che saluto adesso su l'est su l'est su l'est su l'est un altro set un altro set un altro set come è? si si c'è un'altra bravo la grazie a tutti no 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 questo è una classe spaviale che non è niente che è essere male ma va vieni 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.